Li hai presi. Sì. E sono tantissimi. Cento. Allora, oggi è giovedì 16 settembre. Sono le otto circa. Circa. E siamo al cinema di Silea, The Space Cinema. Perché oggi c'è la prima di Dune. E lei è Sammy. Facce... Facce conosciute. Cosa siete venuti a fare oggi al cinema? Ah, tu hai letto il libro. Sei una di quelle poche persone che hanno letto il libro. Tu hai letto il libro? Io ho visto il trailer allo scorso film, non mi ricordo il trailer. Giallo, ma di cosa fare al film? Cosa da sborronissimi. Abbiamo una cassa riservata. Pronti? La risalve. Perché? Non è il mio compleanno. Non è il mio compleanno. Non ho niente. Grazie però. La risalve grazie. E invece... Non è il mio compleanno. Cosa vi può essere chi? Nonhi σε qualcuno.